Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 9 marzo. I temi fondamentali della giornata sono ovviamente che fine faranno i nostri eroi, cioè questo governo giallo-verde che io davo per molto più duraturo, perché ha fatto nei mesi scorsi capire come la capacità di compromesso era per loro fondamentale. Hanno fatto un contratto ed erano dei nemici giurati, sono riusciti a portarsi a casa un pezzo di pensioni quota 100, e un pezzo di rendito di cittadinanza con i 7 miliardi. Insomma, erano secondo me perfetti alleati nel compromesso, cioè due forze assurde che si trovavano insieme ma che riuscivano a fare compromessi su tutti. Cadono sulla TAV. In realtà il motivo che dicono tutti quanti oggi i giornali, appunto che sul treno non si può arrivare a un compromesso al ribasso per il momento 5 stelle, io penso che se le elezioni regionali che tanto dicono non avrebbero influito minimamente su questo governo fossero andate diversamente, cioè sostanzialmente se la Lega non fosse andata così bene e se il Movimento 5 stelle non fosse andato così male, nonostante continuino a dire che non c'entrano nulla, bene, se quelle elezioni regionali non fossero andate così male, io sono abbastanza certo che un compromesso l'avrebbero continuato a trovare. Un compromesso, come è avvenuto nella prima parte del governo, che era sfavorevole alla Lega, basti pensare a quella schifezza che è il decreto dignità. Oggi ci sono ovviamente tantissimi commenti, forse la dichiarazione più citata è quella di Buffagni, sottosegretario alla Palazzo Chigi, che dice che la crisi è già iniziata. Saluto Bartolomeo Giacchino, uno dei pochi eroi, diciamo così anche se si abusa del termine, che contro questa follia della chiusura della TAV si batte in Piemonte, altro che madamine, lui ci mette la faccia da tempo, e oltre alla... Ma pensa tu che qualcuno mi chiama a quest'ora, a quest'ora non mi si può chiamare. Cosa succede? Oltre alle vicende, come l'ha definita il fatto, la banda del buco starebbe tramando. È fantastico leggere il giornale ironico del fake quotidiano, tra l'ironia e la realtà, fino a qualche settimana fa, fino a qualche giorno fa ci hanno spiegato che non sarebbe costato nulla a non fare la TAV, poi ci hanno spiegato che i francesi non ci avrebbero messo una lira, e adesso la terza ipotesi, vedrete che è quella che sarà presa da alcuni del Movimento 5 Stelle, è che c'è una banda del buco, cioè sostanzialmente vicino alla TAV ci sono soltanto dei truffatori, mafiosi, andranghetisti, citando due o tre società CMC di Ravenna, Gavio, Condotte, che fino a prova con Dallatraria hanno delle difficoltà per quanto riguarda CMC e Condotte, non certo per quanto riguarda Gavio, e tra parentesi scrive il pezzo oggi del fatto quotidiano, queste società, tutte guarda caso, coinvolte in mani pulite. Ecco, questo è il criterio per il quale poi anche Di Battista l'altro giorno da Fazio dice che ci sono infiltrazioni mafiosi, insomma, su questa banda del buco, come la ripresa di Battista dal fatto, in realtà, giustamente, le aziende premontesi non ci stanno e lo hanno querelato. Quindi, insomma, staremo a vedere cosa succede, entro lunedì si devono rinnovare i bandi, si devono fare i bandi della TELIT, ci sarà il Consiglio di Amministrazione della TELIT, lunedì, lo discriuteremo a Quarta Repubblica, non c'è dubbio perché su questa storia il compromesso o c'è oppure temo che una crisi, come dice Buffagni, potrebbe esserci. Diciamo che di commenti politici ne segnerei due. Il primo è quello di Ricolfi, molto interessante sulle primarie, che dice che è fantastico, l'abbiamo, si parva lì, c'è detto anche noi, nelle settimane scorse, come si evochi un miracolo prima sulle primarie del PD, ma è perché semplicemente si era prima evocata la morte di un partito, poi quando quel partito non è morto, come era evidente, con il 18% delle suffragi che continua a avere, si è pensato al miracolo. E dice Ricolfi che in realtà ci sarà una lenta marcia di avvicinamento al momento 5 stelle, perché hanno posizioni poi alla fine tutto sommato simili sull'economia, del reddito di cittadinanza, del reddito di inclusione, all'immigrazione, anche se sulla TAF mi sembra che Zingaretti la prima cosa che abbia fatto è andare in Piemonte a dimostrare come invece loro sono per la TAF, anche se il loro sono per la TAF è soltanto relativo, perché la sinistra per anni in Liguria e in Piemonte, come ben sa Giacchino e tanti altri piemontesi, contro le offere pubbliche infrastrutturali sono stati contrari. Oggi invece Mauro, come al solito, cerca di definire queste forze da par suo, sono due forze unite soltanto dal comune e sordo istinto, scusatemi, di destra, no, scusatemi l'ho aggiunto io, quindi queste sarebbero due forze unite soltanto dal comune e sordo istinto di destra, e poi dici perché i fenomeni non si capiscono, poi dice che siamo, e quindi fa gioco a loro essere in una situazione di febbre permanente. Due altre cosettine direi di giornata, perché per quanto riguarda la politica dovremmo aggiornarci a quello che succede nelle ultime ore. Beh, insomma, la prima riguarda Sallusti e soltanto il fatto, scusatemi, soltanto Claudio Cerase, lo ringrazio il foglio, si ricordano del fatto che la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato lo Stato italiano per ingiusta detenzione per quei 23 giorni di carcere che si è fatto Sallusti prima di essere graziato dal napolitano per il fatto di aver omesso il controllo su un pezzo scritto da un collaboratore del giornale. Vi rendete conto? Insomma, questo è il motivo per il quale questo si è fatto il carcere e sono molto grato agli amici del foglio di oggi perché si sono ricordati anche la mia vicenda giudiziaria che ovviamente non ha portato all'arresto ma ha portato a otto anni di indagini e di archiviazioni dopo otto anni per una presunta violenza privata da parte mia nei confronti della Marcegaglia che se ancora ci penso mi viene il sangue al cervello e questo per quanto riguarda Sallusti lo sciopero delle femministe lo troverete tra poco sul mio sito anche un appunto che fa Alessandro Gnocchi cioè sono riuscita a imbrattare la strada di Montanelli e fare uno sciopero dei trasporti pubblici una roba talmente assurda che ne ho discusso e commentato ieri mattina che oggi in maniera direi altrettanto decisa ne parlano Mario Giordano sulla verità che lo definisce una boiata pazzesca e anche la Furlan unica segretaria donna di un grande sindacato cioè della Cisle che dice che è una stupidaggine scioperare per una roba di questo tipo l'industria ha ripreso a correre si fa per dire ma comunque ha dato un segno positivo nel gennaio del 2019 perché i suoi risultati sono di un incremento del fatturato scusatemi della produzione dell'1,7% siccome ogni dato negativo viene giustamente enfatizzato da tutti quanti i giornali io devo dire che oggi fa bene il sole a citare questo dato sull'industria che continua a fatturare perché non si riesce a capire perché quando invece vanno a positivo le cose si dimentichino indipendentemente dal governo ovviamente Barbara buongiorno su base annula c'è poco da gioire perdiamo lo 0,8% pere e mele sono un po' messe in relazione invece dal verità che dice come in Germania invece continuano a scendere l'industria in realtà scendono gli ordini che è altrettanto grave perché sono gli ordini che porteranno a una diminuzione della produzione quindi in prospettiva del fatturato ma comunque sia insomma diciamo la verità probabilmente questo aumento del gennaio del 2017 della produzione industriale italiana farà sì che non ci sia il terzo trimestre negativo di PIL me lo auguro ovviamente per tutti noi beh insomma sarebbe lungo parlarne ma il dossier della stampa oggi con ovviamente il solito commento di Mario Tozzi che ha fatto del catastrofismo ovviamente la sua ragione di essere sulle cosiddette morti premature per inquinamento in pianura padana sembra che in pianura padana ci sia una specie di epidemia di morte soprattutto per l'utilizzo del diesel perché dicono che queste morti premature per il 30% a Milano avvengono per il diesel intanto i numeri queste morti premature mi sembra che siano lo segnato in Italia secondo questo pane internazionale pazzesco le morti premature adesso voglio proprio dire quanti sono sono 7800 in Italia cioè le morti premature in Italia per inquinamento sono inferiori alle morti che ci abbiamo ogni anno molto concrete per gli incidenti stradali allora io mi chiedo e vi chiedo nella regione più ricca d'Italia nella regione con i servizi più ricchi d'Italia con la sanità migliore d'Italia con i trasporti diciamo tra i migliori d'Italia come si calcola la morte prematura? come si calcola? perché il concetto non è che muoiono di inquinamento ma muoiono prima di quanto sarebbero dovute morire queste persone 7800 prima perché? perché ci sono delle polveri sottili cioè io non è che contesto che l'inquinamento faccia male ovviamente anche un bambino sarebbe scemo a contestarlo ma io contro questa specie di follia con quella ragazzina no Greta tutti pazzi di lei zingaretti pazzi di lei e poi la stampa e poi Mario Tozzi e poi le morti premature come si calcola le morti premature? premature rispetto a che? premature per esempio le morti rispetto a utilizzare delle strade che noi possiamo fare per poter arrivare agli ospedali premature rispetto a come avevamo lavorato prima quando non c'erano i diesel e dovevamo lavorare nei campi premature agli incidenti di lavoro che non ci sono più grazie alla macchiazzazione sui campi e nelle fabbriche premature rispetto a cosa a chi e come vengono calcolate beh insomma certo Françoise muoiono comunque ma si sostiene muoiono prematuramente e di quanto prematuramente? un giorno? tre giorni? un mese? polvere di demagogia piuttosto dice Françoise ti adoro ti saluto è un po' che non lo facevo saluto tutti quanti voi Alessandro Gnocchi e come si riesce a imbrattare la statua del grandissimo Montanelli a Milano da parte di quattro cretine di sua disonfeministe dei nostri stivali ciao